Sì, ecco la mano. Perché non prendi piede? Colà. Buona. Vai, Sofia. Vai, sofia. Merda. Sofia. E basta, eh. Se non prende 10. Ah, ecco. Ciao. Ciao. Sì, va bene. Hai già soffiato le cartelline? Sì. Vedi? Guarda un po' Gizia. Sì, è qui. Guardate, guardate. Stai ripresa con le giardine. Scusa, no. Sai che il canto è il peccato anche a me? No. No, il peccato è il peccato. Vieni qua. Guarda. Guarda. Appena resta del piacere. Sì. Aspetta, che finiamo fino alle candele. Come soglia? No. Aspetta, sto dopo con i bambini. No, no, no. Non, 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 è stato dicono. Aspetta, cosa accada? Vieni, papa. Ciao, ciao. Ciao, papa. Vieni, ciao. Vieni. Davide, stella, è il computer. Vieni, vieni. Vieni, sei, sei. Vieni, sei, sei, stella. Vieni, sei, sei, sei. Grazie a tutti. Stella, facciate in piedi che sei abbastanza alta e fai sardare i fardici. Cara. Mettiti le pieti, dai, allestarlo. Di dietro, Stella. Di dietro. Di dietro i fardici. Fuora una sardare cadena, dai. Pronti? Fare il tempo di accendere, no? Io soffermi. Aspetta, aspetta. Adesso. Torni la manina. Uno, due, tre. Dai. Forte. Forte, forizzano. Allora. Allora! Tio, dio. Tio, dio. Hai fatto un bel lavoro. Tio, tio, tio. Basta. Adesso mangiamo la torta, che sennò diventa... Tio, due, tre. Tio, due, due. Tio, due. Tio, due, tre. Tio, due, tre. Tio, due. Tio, due. Tio, due. Tio, due. No, vai sulle scale, se non c'è un'altra parte. Questa è una lunga e una vicina. Hai capito? Eh sì, brava! Non c'è il flash, eh? Brava che ha fatto la foto! Rosy, riprendimi tutti i barchi, eh? Beh, allora fai una foto dove i barchi. Non ti prendere la schiena. Con la bambina in braccia, così ce la guardiamo. Sono sicuro che vi parla. Vedete lo zio. Vedete lo zio. Ecco qua. Guarda, a cavalluccio. Guarda, guarda, guarda. Guarda la stella, guarda la stella. Benissimo, guarda cosa fa la stella. Ha preso due occhi qua, vai. Adesso mangiamo la torta. Ecco Carlo. Vai pianino, no? Se non lo fai come la mamma che è tutta la sveglia. Vai piano. Meglio vado piano. Oh dai con la mamma. Di cosa? Vi c'è. l'altro panamma. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Anche buoni a te. No, ma qui è venuto qua. Apri qua, apri qua. Come con il vento. Ecco, cosi? Cosi va? Molto cosciente, eh, questo compriamo. Ecco, dai, apri. Hai visto che indico? No, lei è con il vento, no? Non lo mette. Sta fendo, lo devi aprire lei. No, ma certo. Ma hai troppo un'antere che sta vendendo. Mamma davanti, eh, brava. Mamma! Di profilo? Non lo mette. Dai, Denise, apri. Guarda qua. E' una bambolina. Uuuuh, che bello! E' una bambolina. Bella, felice, però. Tutto, dopo viene un po' lungo qua, stai. Vai, vai, vai. No, 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 no. No, 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 no. Ma basta che mi prenda me e la vai. Eh? E' così carina. E via! Papà, canta. Canta? Stranete. Ma no, 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 no. Scendi giù, di vincita. un primo piano dell'azio allora questo è dolce chi è che non vuole dolce? io! zio sorridi ecco, fammi un primo piano se no non è come un piano fare un primo piano al coniglio che c'è sulla bagnetta ma no, leggiamo in aria, amichi la prossima leggiamo in aria eh sì poi mi compra la sottinità vieni chi è che vuole dolce? posso spegnare? sì spegnare no, 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 no c'è un regalo più grande adesso eh? mi aprile 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 ok, registri registri? prendi il galottone ora ti riprendo a te basta, eh, non... quando tu adesso sei ripreso prendi anche un piano piano... traballo traballo chi è che traballo? prendi la campagna fa vedere eh ma non devi andare contro il sole che non si vede poi devi avere sempre il sole alla spalla ma dove sei? traballo, traballo spengo spengo si devo che stare a casa, presto dove è lì? no è a cerco quando riprendono se riprendono la lente arriva la ciobana arriva la ciobana la vera lumena con quattro o cinque piedi con quattro o cinque piedi questa casa è tra è quella che è la bambina? è quella che è la bambina la piccola ha capito cavità cavità togliti davanti Davide l'Antonella dove? eh ? dove è l'Antonella? Sì, ma non cale troppo tempo. Ah, Davide. Sposta qui. Valentina. Sposta quella bicicletta, Davide, alzala. Valentina. Sì, dai, spostati. Zio, guarda. Ma non è digerito. Ha digerito la bella. Oh, Catalina. Cosa fai? Ciao. Candy. Candy, un sorriso. Cheese. No, Davide, togli. Allora lo prende brutto, forse, vedi? Ciao, bella. Con le orecchie dritte, dai, insieme. Eh? Con le orecchie dritte. Chi? Che, vuoi venire bella, potremmo essere bella. Allora, spengo. Ecco, vedi, vedi? Che bella. Candy. Candy. Vedi? Che ti agiti, eh? Tu, guarda, stai. Dopo diventa troppo monoteno quando guardi. Vedi? 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 Eh, vedi quando facciamo, puoi vedere che diventa... Ciao. 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 Ciao.